No, deve essere più in basso Benvenuti in questo spacchettamento epico Oggi spacchetteremo... Eh, quant'è? Oggi spacchetteremo 10 pacchi di Akai 10 pacchi Pokémon di cui uno specialissimo Edizione special Allora, cominciamo dal primo Che cazzo è questo? Pokémon Leandres Luminasas Vedi? Luminasas 10 carte di gioco addicionales Ad aprire il nostro pacchetto Oh mio Dio, Epico Mega Altaria X Triluccicante E quella è la che... Ma c'ha la... YouTube ce l'ho già YouTube GX Poi abbiamo tutti Ragazzi Andiamo ad aprire anche questo pacco Un telefono di casa Mi squilla Liucce ma sa che non ve l'ho effettivamente Poi Secondo pacco Pokémon E poi questo Cloucher Non me lo creo 5, 6, 7, 8 Dai, ma cosa avete contato? Sant'Oddio Gasti Mucoro E anche questo pacco Volato al baretto Come gli altri C'è Ma io non ho capito Ma veramente, ma io non ho capito, ma veramente Ne mare mamma, devi far colore Noi, su, dove, z Dato di merda, non ci scarta a vedrare il cossaro Vedi questo, vedi questo